Sempre nello stesso file di prima vediamo una serie di immagini di modi retrogradi di pianeti. Quest'immagine l'avevamo vista anche prima, è un pianeta, era il pianeta Marte che compiva questo modo retrogrado, lo descriveva tra l'Ariete e il Toro intorno a Luglio. E questa è sempre la stessa immagine con le costellazioni dell'Ariete e del Toro sullo sfondo. Qui abbiamo un altro pianeta che compie modo retrogrado tra l'Acquario e il Capricorno e questo avviene intorno al mese di agosto. E qua vediamo anche una cometa, la cometa Holmes, che compie un modo retrogrado.